Un caro saluto da Diego Fusaro, un caro saluto a tutti. È arrivato un rimprovero chiaro e distinto dalla Cina contro la Nato. La Cina ha detto testualmente, leggo su ansa.it, che la Nato deve smetterla di provocare e di cercare a tutti i costi lo scontro. Quindi la Cina di Xi Jinping una volta di più assume una posizione chiara e direi anche lungimirante. La Cina è perfettamente consapevole, e lo dice pure, del fatto che la guerra con la Russia è sostanzialmente una guerra voluta dalla civiltà del dollaro e dal codazzo delle sue colonie, tra cui Savasandir, l'Italia, con il governo della destra bluette neoliberale di Giorgia Meloni. La Cina, come non ci stanchiamo di ripetere ad nauseum, con Xi Jinping sta per ora facendo valere la posizione più intelligente, paccata e cauta nello scacchiere esplosivo della globalizzazione imperante. La Cina sta cercando di sedare i conflitti, sta cercando di proporre vie per la pace, e ora fa sapere, come giusto che sia, che è soprattutto l'Occidente di cui la Nato è il braccio armato in relazione all'imperialismo washingtoniano, è soprattutto l'Occidente, o meglio l'Uccidente come ormai dovrebbe essere apertamente appellato, a volere la guerra con la Russia di Putin, colpevole agli occhi del leviatano a stelle strisce di non genuflettersi alla libido dominandi statunitense, e più precisamente a quella globalizzazione che meglio andrebbe definita come americanizzazione coatta dell'intero pianeta. Grazie a tutti.